Oggi il Museo Santino di Vola di Orani non è solo un contenitore che raccoglie chiaramente la più grande collezione europea delle opere dell'artista, ma nient'altro che un luogo di produzione culturale posto nel cuore del Mediterraneo, crocivia di genti che si incontrano e si recano a Orani per trascorrere non solo piacevolmente delle visite o delle passeggiate museali, ma diventa un luogo di studio e di confronto, luogo in cui gli studenti al Politecnico di Milano, gli studenti dalla Cina, dal Giappone, trascorrono dei periodi dialogando con una comunità e lì interagendo con delle professionalità che già esistono, legate ad esempio alle produzioni artigiane, il dialogo serrato con altri musei internazionali, dal Museo Bougenheim di Venezia o ancora la profonda vocazione internazionale che conserva, visto le collaborazioni già strette in vita dall'artista con Santino Nivola, il dialogo con la Fondazione Le Corbusier, è un circuito serrato di mostre temporanee a carattere internazionale, dedicati ai temi della spazialità, al design e fino alle mostrate contemporanee di Salvatore Fancello, artista italiano, legato al mondo della ceramica. La cosa sorprendente è che oggi appunto il Museo Nivola si pone come un luogo di progettazione culturale e questo fa sì che accolga una realtà vivacissima, anche animata da un'area didattica che accoglie i bambini sin dall'età di tre anni fino all'università della terza età. È un luogo che vi invito chiaramente a visitare e a riscoprire anche attraverso i nostri siti, le pagine Facebook e Instagram dedicate al Museo Nivola.